Payday 2 è stato un successo inaspettato. All'epoca della sua uscita, avvenuta ormai dieci anni fa, nessuno poteva aspettarsi che il gioco avrebbe continuato a vivere per un tempo così lungo. Ecco perché l'eredità che preme sulle spalle di Payday 3 non è delle più leggere. Amici e amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, io sono Stefania Sperandio e oggi siamo qui per la recensione di Payday 3 a cura del nostro Niccolò Bicego. La storia di Payday 3 è ambientata dopo le vicende di Payday 2 e vede il ritorno del cast del primo episodio insieme a qualcuno del secondo e anche delle new entry. Questa volta le vicende sono ambientate a New York, che a detta degli sviluppatori è stata scelta per simboleggiare la patria del capitalismo occidentale. La gang deve confrontarsi con qualcuno che sta dando loro la caccia e con un mondo del crimine in costante evoluzione. Come per gli altri episodi, la storia è presente solo per fare d'accollante tra le diverse missioni. Viene presentata attraverso delle immagini in sequenza, con il solo doppiaggio a dar loro vita che, dobbiamo dirlo, nella nostra prova neanche si sentiva correttamente, probabilmente per dei bug. Dopotutto, la trama non è mai stata un focus per la serie e non ci saremmo aspettati qualcosa di diverso nemmeno per Payday 3. In compenso, il gioco riesce comunque a regalare dei momenti splendidamente non-sense, come la presenza di Ice-T, rapper americano celebre tra le altre cose, anche per il suo longevo ruolo in Law & Order Unità Vittime Speciali. Se sulla storia c'è davvero poco da dire, il discorso cambia per il comparto tecnico. Il salto di qualità rispetto al predecessore è evidente. Il gioco gira su Unreal Engine 4 e attraverso futuri aggiornamenti passerà al PS5. Detto questo, però, è anche chiaro che non siamo di fronte a un gioco ad alto budget. In generale, Payday 3 potrebbe passare per un titolo della scorsa generazione e se questo è ampiamente perdonabile, quello che ci ha lasciato più perplessi è il fatto che al lancio sia praticamente pieno di bug. Abbiamo svolto la nostra prova su PS5 e abbiamo notato numerosi problemi nel corso delle partite. A volte, ad esempio, capita di vedere un personaggio bloccarsi in un loop o diventare semplicemente irraggiungibile per i nostri proiettili. La cosa che più stranisce, però, è vedere bug presenti perfino nel menu principale. In alcune occasioni abbiamo riscontrato anche l'incapacità del matchmaking a trovare delle partite, che forse è stato lo problema più fastidioso di questi primi giorni di lancio ed è un problema che segnaliamo perdura anche in questo momento, tanto che il gioco sta venendo bombardato da recensioni negative su Steam che se la prendono proprio con i server e con il matchmaking da rivedere. Evidente, insomma, che Payday 3 avrebbe avuto bisogno di qualche altro mese di sviluppo, quantomeno per limare tutti questi problemi che, per quanto non rovinino l'esperienza, danno comunque una fastidiosa sensazione di gioco non finito e senz'altro non l'aiutano a essere più godibile. Per quanto riguarda il gameplay, il feeling rimane praticamente lo stesso del predecessore. Tra i miglioramenti, però, abbiamo notato una maggior fluidità di movimento che adesso è stato reso più dinamico anche grazie alla possibilità di utilizzare mosse come la scivolata. Anche il feeling delle armi ha avuto un aggiornamento e ora l'ha resa pad alla mano e molto più soddisfacente. Nella struttura delle missioni il gioco riprende, ed è chiaro, le basi dei primi due capitoli. In ciascuna delle missioni disponibili dovremmo infatti portare a termine un obiettivo principale, che solitamente prevede il furto di qualche tipo di oggetto da caricare sul classico mezzo di fuga dalla banda. Ovviamente ogni missione prevede anche una sequenza di obiettivi secondari, che possono andare ad arricchire il bottino complessivo e che potremo reinvestire poi sullo sviluppo del nostro inventario. Parlando delle missioni disponibili, attualmente sono otto e sono tutte piuttosto varie in quanto obiettivi, location e strategie di approccio. Se è vero che Payday 3 ha mantenuto la struttura delle missioni intate, è anche vero che sono state notevolmente ampliate le possibilità di gioco. Ad esempio, sono state approfondite le fasi preparatori del colpo, quelle dove i criminali non hanno ancora indossato la maschera e non sono quindi ancora riconoscibili come minacce. In queste fasi potremmo adesso perlustrare tutto o quasi il perimetro della missione, in modo da pianificare al meglio il nostro piano d'azione. In generale è un approccio che rende molto più fattibile giocare le missioni in modalità stealth, qualcosa che soltanto i veterani potevano sperare di riuscire a fare in precedenza. In Payday 3 invece è quasi sempre chiaro che ci sono dei modi per completare la missione senza mai essere scoperti. In questo modo le missioni in un certo senso raddoppiano perché ci sono quasi sempre almeno due strade percorribili, molto diverse tra loro. Un'altra giunta è rappresentata dalla fase di negoziazione, in cui potrete decidere di scambiare ostaggi per oggetti di cura, rifornimenti o soprattutto tempo. Apparentemente può sembrare una modifica di poco conto, ma questa fase non solo permette di prendere il respiro tra un'ondata di nemici e l'altra, ma aggiunge anche un ulteriore pizzico di strategia. Dovrete infatti decidere se e quanti ostaggi tenere, se preferite usarli come scudo o se preferite liberarli in cambio di qualcosa e così via. Più in generale tutte le missioni presenti sembrano più ampie, con un level design più ingegnoso che si presta a essere approcciato con molte strategie differenti e questo le aiuta a essere altamente rigiocabili, perché ogni volta il feeling sarà diverso in base a come decideremo di agire. È anche vero però che le missioni rimangono comunque solo 8, è chiaro che il gioco non può ancora contare su tutti gli anni di supporto avuti dal predecessore, però passare dal pacchetto completo di Payday 2 alla rosa ristretta di Payday 3 lascia un po' l'amaro in bocca. Il tempo che abbiamo passato con Payday 3 insomma ci ha lasciato con delle sensazioni positive, ma anche con qualche rammarico. Da una parte il gioco riesce tranquillamente a giustificare la sua esistenza, migliorando il predecessore sotto ogni profilo. Non ci sarà mai nessun momento in cui penserete che questo poteva essere semplicemente un DLC per Payday 2. D'altro canto però, la scarsità di contenuti e i numerosi bug che affliggono l'esperienza danno l'idea di un titolo che non era ancora pronto a uscire, e che avrebbe davvero giovato di qualche mese di sviluppo in più. Si tratta di problemi che potranno essere risolti con il supporto a lungo termine, quindi siamo fiduciosi per il futuro del gioco. Al contempo però noi possiamo valutare solamente quello che è concretamente presente al lancio e non le buone intenzioni degli sviluppatori e del publisher. Payday 3 fa quello che ogni sequel ambisce a fare, migliora il predecessore sotto ogni aspetto. Abbiamo un salto di qualità a livello tecnico, un miglioramento del gameplay di base, missioni più stratificate e appassionanti. Fin da subito è chiaro perché il giocatore dovrebbe abbandonare Payday 2 per passare a questo terzo episodio. D'altro canto però, al lancio stiamo riscontrando numerosi bug e glitch, che pur non incidendo profondamente sull'esperienza, danno l'idea di un titolo che avrebbe giovato di qualche mese di sviluppo in più e a cui manca una buona dose di rifiniture. Quest'idea viene rafforzata anche dalla mancanza di contenuti. 8 missioni, per quanto altamente rigiocabili, sono poche, soprattutto dopo la ricchezza del pacchetto offerto dal predecessore. Ci auguriamo che gli sviluppatori riescano a migliorare presto la situazione con degli aggiornamenti, perché l'eredità di Payday 2 non è leggerissima e per raccoglierla sarebbe servito senz'altro un primo passo più deciso di questo. Grazie a tutti!